La partecipazione del presidente Dopo l'elezione di Abramo Lincoln a presidente degli Stati Uniti, la medium Maynard pubblicò un libro in cui descriveva la partecipazione del presidente alle sue trans a Washington. Lincoln non smentì mai. La Maynard disse anche che attraverso di lei parlava lo statista Daniel Webster che sollecitò Lincoln a liberare gli schiavi. È possibile? Non solo è possibile, ma era ineluttabile che Abramo Lincoln fosse ucciso dalla sua stessa missione.